7 dicembre 1921 A Milano viene inaugurata l'Università Cattolica del Sacro Cuore A volerla è padre Agostino Gemelli che nell'aprile 1919 ha costituito l'Istituto di Studi Superiori Giuseppe Tognolo L'Ateneo Cattolico otterrà nel 1924 il riconoscimento di università libera acquisendo così il diritto di conferire titoli accademici aventi valore legale